Musica Ciao, sono Angelina Avila, ho 17 anni, studio all'Istituto Francesco Ferrara e rappresento l'associazione AECOS, Associazione Equatoriana Convergenza Sociale. Perché partecipare a questa America Latina in Italia? Perché penso che questo evento sia un'occasione importante per promuovere la ricchezza culturale sia dell'America Latina in generale che il mio paese, l'Equador. Grazie Grazie Grazie